come sempre cominciamo con l'invocazione allo spirito santo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo vieni spirito santo manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella galora riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordito bagna ciò che è arido sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è lito drizza ciò che è sviato donna ai tuoi fedeli che solo in te convidano i due santi doni donna virtù e premio donna morte santa donna gioia eterna amen guardiale saluto di benvenute a voi e a quanti hanno la possibilità di poterci seguire via web siamo arrivati alla ventisettesima domenica del tempo ordinario ciclo a il brano che leggeremo incontreremo mangeremo tratta dal capitolo ventunesimo versetti 33 43 darà la sua vigna ad altri vignaioli e questo ci invita a pensare un poco in più e come sembra proclamiamo questa parola ascoltiamo ancora una volta ecco questo brano dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo ascoltate un'altra parabola c'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna la circondò con una siepe vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono un altro lo uccisero un altro lo lapidarono mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi ma li trattarono allo stesso modo da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo avranno rispetto per mio figlio ma i contadini visto il figlio dissero tra loro costui è l'erede su uccidiamolo e avremo noi la sua eredità lo presero lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero quando verrà dunque il padrone della vigna che cosa farà a quei contadini gli risposero quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo e gesù disse loro non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo questo è stato fatto dal signore ed è una meraviglia ai nostri occhi perciò io vi dico a voi sarà tolto il regno di dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti parola del signore a teo cristo anche questa domenica è segnata dalla presenza della vigna qui c'è anche la descrizione di questa premurusa relazione che il padrone di casa o ecodes podes ha nei confronti ecco della vigna vi dicevo altre volte come questa relazione è profondamente affettiva è una relazione d'amore qui vediamo nel racconto stesso del Vangelo quale è stata la premura e l'attenzione che il padrone ha messo nel ordinare sistemare la vigna vedete la vigna è una di quelle piantagioni che dura nel tempo non è che ogni anno si cambia la vigna anzi più va avanti più matura più rende diciamo corre di più il raccolto molto più abbondante per cui è come un'alleanza tra il condadino e la sua vigna una relazione che va al di là di quelle che sono diciamo le situazioni concrete no il padrone e la vigna ed è una relazione quasi d'amore di vita questo lo cogliamo anche in questa descrizione di come aveva abbellito sistemato supportato ordinato questa vigna troviamo alcuni elementi c'è un padrone l'immagine di dio con la terza diapositiva potete leggervi questi elementi che sono molto belli ha piantato per noi una vigna nella storia come un anticipo del paradiso che abbiamo perduto anche esso piantato da dio per amore dell'uomo allora già cominciamo a vedere come la vigna anche paradigma del popolo di dio del popolo sacerdotale del paradiso nell'antico testamento la vigna indicava israeli il popolo scelto nella sua radice è cresciuta la chiesa popolo di israele popolo eletto troviamo la chiesa che viene proprio configurata alla vigna nella quale ciascuno di noi è chiamato l'altro giorno abbiamo visto proprio la vocazione no è chiamato è generato custodito e formato ecco questi aggettivi configurano qual è la giusta relazione che noi abbiamo nei confronti della vigna questo ci fa capire alla premura di questo padrone di casa che ci viene a fare entrare nella vigna io verai a qualsiasi ora come ecco consegna la vigna la vigna e sui figli a coloro i quali sono ben disposto ad entrare no a stare a vivere nella vigna nella chiesa i cristiani crescono alla luce della parola di dio che è come allora questo padrone ha fatto una siepe perché animali di qualsiasi genere non devastino la vigna una siepe che è l'immagine della torà protegge il cammino ed indica le urme della volontà di dio si nutrono del succo di figante spremuto succo della vite e per avere questa pigiatura c'è il torchio il torchio secondo la dizione anche dei padri è l'altare della croce quella pasqua che passa attraverso la morte la crocefissione e la resurrezione sulla quale il signore appiggiato da solo è lui che è andrato nella morte poi c'è una torre il deposito luogo di accoglienza di ricovera dei vignaiuoli e immagine biblica del tempio celebrano in comunione gioia le liturgie nelle quali assaporano le primizie del cielo poi ci sono i servi del padrone che non sono sempre nella vigna la visita non solo nei tempi favorevoli alla raccolta dei frutti ecco questi elementi tratti appunto dalla patologia i padri ci fa guardare che questa dimensione questa realtà della vigna come qualcosa di veramente significativo è bello ma entriamo come sempre nel contatto con la parola di dio già altre volte ho detto noi ci fermiamo ancora solamente al vangelo perché vogliamo proprio incontrare quelle che hanno la profondità della sapienza che viene dalla parola di dio incontrando la parola la parola cercando ecco di non attenerci a tante altre spiegazioni se non quelle della chiesa di qualche padre ma che parla a noi stessi che si rivolge a noi noi la incontriamo proprio nella sua struttura anche semantica in quel tempo gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo è bella terza volta che gesù con tre avvenimenti tre parabole rivolta ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo storo hanno in mano le chiavi no per la torà solo conoscono la torà ma sono quelle che difficilmente si lasciano a convertire cioè diciamo questo racconto è anche ricco di ansia e di premure da parte di gesù fa il possibile per farle entrare che in questa dimensione straordinaria della vigna vivere nella vigna ma è difficile per cui comincia ecco questo versetto il trentatresimo con un imperativo accusate ascoltate aprite il cuore aprite l'orecchio accogliete come la terra accoglie il seme no accogliete diceva un imperativo quasi come se il signore volesse far entrare mediando questo racconto parabolico o simbolico no perché sta per rivelare qualcosa di straordinario nella ordinarietà del tempo e della vita degli uomini usa questo linguaggio parabolico perché deve tradurre qualcosa di enormemente grande ascoltate un'altra parabola ed è la terza riguardo e qui la tinta è che della della parabola comincia ad essere anche più viola comincia a essere cosparsa di sangue dal sangue dal mosto no dal vino colore del vino del tino dove è lui solo che entra no nel torcchio qui si allarga anche gli altri che diventano violenti diventano aggressivi diventano stanno lontano da quelle che l'amore la pace e il gusto ecco del del vino c'era un padrone già altre volte abbiamo sottolineato questo termine no il padrone che ha la casa viva vive e questa vigna fa un tutt'uno con la famiglia con la casa abbiamo detto il popolo di dio e il regno di dio e la chiesa un padrone che pianto una vigna e la circondò con una siepe vedete che delicatezza no che premura questo padrone di casa a questo padrone di casa piantare la vigna e scegliendo dirà isaia già qualche secolo precedentemente precedentemente come aveva preso dei vidigni di qualità la prima lettura troviamo pianto una vigna e la circondò con una siepe che bello questo circondare questa avvolgere in qualche immagine abbiamo visto come anche per maria qualche autore qualche autore ha dipinto no ha raffigurato maria volta dal rotolo della legge bellano questa vigna circondata circondata appunto da dalla torà dalla rivelazione con una siepe vi scavò un frantoio dove c'è appunto la macina dove c'è il torchio per pigiare quest'uva vi costruì una torre diciamo ha sistemato in un modo meraviglioso straordinario ecco questa questa vigna perché fosse belle fosse anche fruttifera fosse accogliente con tutte le comodità possiamo in tutte le cose utili poi l'affidò anche queste è molto bello no c'è come una consegna come una consegna l'affidò a dei vignaioli e se ne andò lasciando libri i vignaioli di poter operare nella vigna domenica scorsa nel dire che questo padre mandi figli a lavorare nella vigna abbiamo sottolineato qual è il vero lavoro se non quelle della conversione la conversione proprio è quella degli altri quando fu il tempo dei frutti e qui ci troviamo ecco nel cai rosso ton carponna il tempo favorevole opportuno il tempo significativo propizio per i frutti per raccogliere è arrivato quanto è giugno no è arrivato il tempo della mietitura qui stiamo nella autunno è arrivato il tempo della vendemmia allora che cosa fa mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto qui viene chiarito una relazione significativa è vero che il padrone di casa accolto sia gli operai ha mandato i figli ha preso il popolo nella vigna consegnato la vigna ma non si diventa mai padroni padrone sempre uno padrone dio e qui vedete ci fa anche riflettere questo fatto nel vedere come noi anche per nei riguardi della terra in questo tempo particolarissimo che stiamo vedendo la violenza dell'uomo la manipolazione dell'uomo sulla natura stiamo pagando è un prezzo elevatissimo sia del corona via virus no covi 19 ma sia anche per tanti i terreni intossicati con la conseguenza di tante malattie tumori no perché l'uomo ha pensato di essere il padrone della vigna no noi siamo figli del ma non siamo i padroni padrone dio noi possiamo disporre delle cose ma non le possiamo violentare non le possiamo distruggere come bello ecco questo invito in questo tempo a riflettere un poco sulla laudato sì no per dire come ristabilire un equilibrio di gran lungo ecco distrutta annientato dalla prepotenza arroganza violenza dell'uomo nel considerarsi padrone verso il creato creato e l'immagine e riflesso dell'amore di dio noi non siamo padroni possiamo utilizzare possiamo vivere pensata alla madre terra capace veramente di generare la vita e darci la vita e come il papa sottolineata l'importanza della cultura di queste comunità primitive no che vivono ancora in una relazione di rispetto verso la madre terra contrariamente a quelle che è il progresso violento di manipolazione della natura mandò i suoi servi da quei vignai vuole per ritirare il raccolto ma quei vignai vuole presero i servi noi diciamo nella nostra espressione anche napoletà si rispetta il cane per il padrone ecco queste immagini servo come degli angeli rappresentano il padrone ma poiché hanno perso questa lucidità hanno perso questa sapienza hanno perso questo discernimento questa chiarezza vedendo fruttificare questa vigna così belle che loro non avevano piantato che loro non avevano costruito sistemato capire perché non sono padrone non era opera delle sue allora hanno visto fruttificare ecco questa questa vigna e vedendo ecco questo splendore dice noi siamo grazie a noi il mondo va avanti come tanti di noi diciamo in ogni situazione se meno male che ci sto io sono qua non andiamo avanti che cosa terribile che cosa terribile noi siamo pur impedimento se ci ricordassimo continuamente di questo fatto che siamo solo impedimento all'opera di dio forse saremo un poco più più umili allora che cosa fanno uno lo bastonarono l'altro lo uccisero l'altro lo lapidarono senza per più che fare sono tre gli elementi bastonare e violentare quella che una persona uccidere e annientare lapidare condannare condannare perché si sentono padrone giudici della situazione vediamo un po che altro succede di nuovo ecco come significativo questo palin di nuovo quasi con una come dire coerenza con una determinazione no questo padrone che vede perdere i suoi servi ancora con una ulteriore come dire proposta nodi manda altri servi più numerosi dei primi ma quelli si comportarono allo stesso modo vedete quando si perde il senno e noi lo stiamo vedendo in questo tempo di una follia pura non c'è nessun motivo che tenga per rispettare le cose le persone quando si entra nella follia c'è la follia non è altro che questa perdita di relazione con l'altro chi sei tu e chi sono io sapete che la follia è sempre un difetto di vista no di comprensione dell'altro allora che cosa succede che si comportano allo stesso modo sanno fare solo questo bastonare uccidere e lapidare terribile vediamo che altro succede da ultimo aveva finito i servi da ultimo mandò loro il proprio figlio qui troviamo sempre in questo mandare con questo verbo apostello no apostolo un inviato aveva inviato dei servi come dire nella nostra vita inviato dei profeti ha inviato degli angeli ma noi non l'abbiamo riconosciuto ma alla fine in ultimo mandò loro il proprio figlio con questa convinzione cioè questo padrone non può ragionare diversamente da così perché lui è il padrone non sa pensare a quelle che è la cattiveria dei dei vignaioli non riesce a immaginarlo per cui fa un ragionamento possiamo dire quasi conseguenza conseguenziale dicendo avranno rispetto di mio figlio lo diremo povero il lusso stai con i piedi per terra ma l'amore grande di questo padrone di casa l'amore grande l'amore anche tenero che vuole convertire dice che altro posso fare per te bella l'immagine no che tante volte anche citate della che di avendo creato l'umanità la terra dopo tanto tempo si affaccia per vedere come stanno gli uomini e vede un campo di sterminio dice che cosa posso fare di fronte a questa situazione l'unica cosa che io e mio figlio a me ne avranno rispetto di mio figlio si stanno ammazzando tra loro si stanno distruggendo mandò suo figlio e sappiamo poi che cosa succede avranno rispetto di mio figlio come è buon pensando questo dio noi abbiamo un dio che come si dice è ingenuo pensa bene non riesce a pensare male ma perché quelle creature sono creature sue le ha fatte lui quando io vi dico ci ha generato dall'amore eterno lui non pensa diversamente dall'amore per cui non può minimamente concepire che del figlio faranno poi un martire non ci riesce a pensare ma quei vignaioli visto il figlio e qui vedete la diversità ritorniamo a un'immagine che vi sto ripetendo continuamente e come vorrei che fosse vera nella vostra vita pensare secondo lo spirito pensare secondo gli uomini questo padrone manda il figlio pensanto bene avranno rispetto di mio figlio e allora ecco accetteranno di essere vignaioli non padroni qual è il pensiero dell'uomo qual è il pensiero dell'uomo dissero tra sé costui è l'erete venite uccidiamoli avremo noi l'eredità ma che dice ma che dicono venito uccidiamolo avremo noi l'eredità ma avete mai visto che l'eredità si riceve per l'assassinio l'eredità si riceve per solamente per un fatto si è rete perché si è figli non perché si ammazza non perché si fanno cose grandi sa quali progetti dobbiamo fare no l'eredità si riceve solo mentre se si è figli perciò io insisto continuamente io voglio sentirmi dire l'unica predica che accetto tu sei figlio di dio le altre prediche non le riesco ad accettare sono parole sono concetti sono astrazione sono poesie sono prosa sono romanzo non mi interessano quando uno mi vuole predicare il vangelo nel vangelo c'è la rivelazione di un dio che è padre non c'è un'altra rivelazione e io questo voglio sentire questo voglio che noi dobbiamo annunciare testimoniare vivendo l'esperienza di figli perché il figlio diventa erede questa è l'erede facciamolo fuori così prendiamo noi l'eredità ma con quale calcolo con quale logica forse c'è il buon senso in tutto questo no c'è la follia il ragionamento degli uomini di cui noi siamo indrisi di questi ragionamenti vi ricordate modicov diceva il mondo considera la chiesa e lo stiamo vedendo in questo tempo una sua propria figlia carne della sua carne il mondo la mondanità la cultura mondana la mentalità del mondo è entrisa entrato nelle crepe della chiesa e stiamo pagando un prezzo elevatissimo allora come bisogna che cosa bisogna fare di fronte a questa situazione vedete quanti scandali stanno uscendo fuori no non vi dico su povero papa si sente attaccato dappertutto quello che fa è sbagliato tutto quello che fa è sbagliato allora giornalisti proprio per trovare pure che lui ha cercato di mettere un po di verità nelle cose ha sbagliato anche a fare questo tutto quello che fa è sbagliato perché questo papa sta dicendo di cominciare a ragionare secondo lo spirito non secondo la potenza degli uomini la mentalità degli uomini lui ha letto molto bene questo momento storico e penso quelle parole che noi stiamo anche approfondendo di quel discorso ma anche gli altri discorsi vedete che hanno tutto questo tono lui legge bene questa situazione riportandoci a quelle che è una visione spirituale dello spirito della nostra storia una visione vitale organica della nostra storia invece no noi ragioniamo secondo questi vignaioli secco l'erede facciamolo fuori così avremo noi l'eredità terribile che è menzogna e questa è la menzogna di cui siamo tutti presi e presolo immaginate un poco preso lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero vi ricordate gesù fu condotto fuori dalle mure fu crocifisso lo preso lo prendono ecco lo catturano lo imprigionano lo fanno sentire incapace lo cacciarono fuori pensato un poco ecco se ballo questo ballo fuori progettato fuori l'oggetto necso tu ampelonos fuori dalla dalla vigna lui che era il padrone era il padrone il figlio del padrone viene cacciato fuori mi ricordate una frase del vangelo che dice i prepotenti gli arroganti hanno occupato il regno il regno è diventato preda dei prepotenti quando la mente dell'uomo perde la giusta relazione con dio non sa più quella che combina caccia fuori il padrone di casa quella che aveva preparato con tanto amore la vigna no aveva messo una sieva aveva creato la torre aveva piantato ecco dei vitigni proprio buoni ricchi no abbondanti gustosi no aveva preso il torchio tutto questo amore si tramudano un'arroganza e prepotenza una violenza i violenti si sono impossessato nel regno dei cieli lo cacciano fuori e lo uccidono e qui diciamo si conclude come dire questa relazione che gesù cerca di avere con i capi dei sacerdoti no scrivi farisei con queste persone no che sono significativi in fondo questo si è si è verificato e pone la questione come è fatta anche nelle altre parabole quando verrà dunque il padrone della vigna che cosa farà quei contadini cosa succederà e vediamo come sono le risposte gli rispondono vedete la risposte esatta no buona farà morire miseramente quei malvagi cacus cacos sapoleisi farà morire in un modo misero quei cacus malvagi e darà la vigna ad altri vignaiole che gli consegneranno i frutti a suo tempo e cosa succederà nella precedente se vi ricordate no parabola c'era vi passeranno avanti prostituti e pubblicano adesso ci saranno ancora altri loro che sono il popolo santo di popolo eletto perderanno questo diritto saranno eliminati perché non hanno dato perché hanno sbagliato a concepire hanno ragionato secondo il mondo non secondo dio sarà dato ad altri vignaiole quali si distingueranno proprio per questo perché al momento opportuno i tempi opportuno no e toys cairo is nel cai ros c'è il luogo e il tempo della diciamo della raccolta opportuna consegnerà consegneranno i frutti e gesù disse loro e qui ci sta proprio una come dire una pietra di rottura o di inciampo non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo dal signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri la pietra che i costruttori hanno scartato ecco gesù in quella situazione si sentiva scartato completamente lui non era entrato in associazione a quelle che era la religiosità di quel popolo non si atteneva nel rispetto o meglio nella tolleranza di quel potere che avevano creato secondo ecco quella dimensione sagrale per cui scartano 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 l'unica vera pietra che è la testata d'angolo quello che dà senso all'arche no l'arco trovo questa pietra come il punto di incontro di queste due braccia no perché possa reggersi ed essere anche la situazione diciamo fondale su cui puoi poggiare tutta la costruzione se voi l'avete mai sentito ecco che la pietra che i costruttori hanno scartato è diventato è stata dal signore è stato fatto questo ed è mirabile ai nostri occhi perciò io vi dico e anche qui vedete di a tutto l'ego iumin altrove abbiamo sentito un'altra espressione in verità di qui è una conseguenziale no dopo quelle che vi ho raccontato perciò vi dico in verità vi dico che cosa vi sarà tolto il regno di dio pensate un po chiamati eletti configurati strutturati educati a godere vivere del regno di dio vi sarà tolto il regno di dio e sarà data ad un popolo che lo farà fruttificare capace ecco di generare i frutti dell'amore nella vigna si raccoglie si raccoglie l'uva l'uva dal vino che è il segno il simbolo di che cosa dell'alleanza della vita dell'amore ci può essere gioia senza vino vi ricordate la le nozze di cana no maria che si fa dire premura se questa festa non finirà bene perché finito il vino vino è fondamentale che il vino è proprio il flusso d'amore che c'è in una relazione tra amici innamorati fidanzati tra padre figli fra tutti quanti sarà tolta poi questa vigna e sarà dato ad un popolo è triste questa vale per noi non sto facendo delle applicazioni moralistiche nei vostri confronti che ne abbiamo avuto tanto però è drammatico questa situazione sarà tolto questo regno di dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare allora qui ritorno a quella che vi dicevo prima no importanza di una annuncio altro giorno vi dicevo come noi abbiamo abbandonato l'annuncio ecco per preoccuparci delle cose che mantengono un'istituzione che sta crollando abbiamo perso quelle che era la freschezza no di una notizia ma non c'è una notizia più bella di questo di una che ti dice tu sei figlio di dio quindi sei erede di questo regno puoi andare in questa vigna a godere la gioia no le brezza anche dei vini no di questa vigna noi siamo chiamati a questo siamo chiamati a questo annuncio ma di che cose ci stiamo preoccupando della organizzazione della strutturazione della sistemazione delle cose che non c'è andrano proprio niente diceva l'altra volta appunto come noi abbiamo fatto una scelta giuridica legalistica della chiesa e la rappresentiamo in questo modo a discapito di una profezia di un annuncio abbiamo messo il diritto canonico che vuole essere anche una traduzione della parola di dio abbiamo messo da parte la parola di dio entriamo in questa sapienza vedete che cose belle ci vengono dalla parola di dio veramente nutriamoci di questa verità questo popolo sto popolo no questi altri siamo noi che noi non siamo l'olivo è di israel siamo l'olivastro siamo avvenuti dopo è arrivata anche a noi per la misericordia di dio questa grazia di entrare a far parte di questo popolo popolo di eletti popolo di santi di sacerdoti popoli che sanno vivere dell'amore gratuito di dio auguri che faccio per voi tutti per voi che state qui state più vicini ma anche per gli altri che avranno modo ecco di ascoltare questa parola nella bellezza e nella gioia e nelle brezze di una di un brindisi straordinario di un vino profumato e dolce e viene dalla vigna del signore e allora concludiamo con la colletta che possiamo pregare insieme padre giusto e misericordioso che vegli incessantemente sulla tua chiesa non abbandonare la vigna che la tua destra ha piandato continuo a coltivarle ad arricchirla di scelti germogli perché in estate in cristo vera vite forti frutti abbondanti nella vita eterna per cristo nostro signore amen e come sempre concludiamo con la preghiera alla vergine ave maria piene di grazie signore e con te tu sei benedetta fuori donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame il signore sia con voi e benedica dio nipotente padre figlio e spirito santo benediciamo il signore e buonasera a tutti con una buona domenica